Questo video riguarda i migliori tre camini elettrici. Il vincitore della qualità nel nostro camini elettrici va al Klarstein Linz. Una sensazione di stile con dimensioni compatte senza fumo e fuoco. L'elegante caminetto finto Klarstein Linz evoca in ogni stanza illusioni di fiamma realistiche, un tocco di romanticismo moderno, una sensazione di stile con dimensioni compatte senza fumo e fuoco. L'elegante caminetto finto Klarstein Linz evoca in ogni stanza illusioni di fiamma realistiche, un tocco di romanticismo moderno. La luce soffusa imita in modo realistico fiamme reali e tronchi incandescenti e diffonde un'atmosfera accogliente. Fuoco tutto l'anno. Le fiamme a LED lampeggiano in modo del tutto indipendente dalla funzione di riscaldamento, anche nelle calde notti estive. La funzione di riscaldamento ha due stadi commutabile, con una potenza di 900 o 1800 Watt a due livelli, fornisce un piacevole calore. Con il timer settimanale regolabile è possibile programmare tempi di riscaldamento indipendenti per ogni giorno della settimana. Un termostato integrato regola automaticamente la potenza termica, mentre Open Window Detection consente di risparmiare costi superflui rilevando un rapido abbassamento della temperatura e spegne automaticamente la stufa a camino elettrico. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Classic Fire Stufa. Stufa elettrica Chicago effetto caminetto. Elegante stufa dal design moderno che si incastona a muro oppure in cornice. Per le sue forme si adatta per ogni tipo di ambiente, dal classico al moderno e con 1800 W di potenza distribuiti su due elementi da 900 W ciascuno. Riscalda in modo più che ottimale la stanza. L'illuminazione a LED inoltre, permette un risparmio energetico non indifferente. Caratteristiche. Dimensioni 23x67x62 cm, voltaggio 230 V, peso 14,8 kg, può essere accesa solo con effetto fuoco oppure fuoco e riscaldamento. La confezione contiene. 1PZ caminetto elettrico, 1PZ foglio distruzioni. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel camini elettrici è il Tolead Camino elettrico. Design in rilievo rosa, schermo in vetro temperato, la combinazione di retro e moderno, si abbinano perfettamente al tuo stile di vita. Elegante tutto l'anno. Il classico marrone scuro e le pulite sono piene di design. La fiamma elettronica realistica a tre livelli regolabile sul display a LED ti regalerà un divertimento visivo sorprendente e affascinante. Il telecomando sottile rende tutte le operazioni facili. Nessuna modalità di riscaldamento, funzione timer settimanale e funzione memoria. Invece dei caminetti tradizionali, è più sicuro e più efficiente dal punto di vista energetico. Quando la temperatura è anormale, il termostato interromperà automaticamente l'alimentazione per proteggere la tua sicurezza e quella della tua famiglia, l'altezza è 76 cm, la larghezza è 80,6 cm e la profondità è 22,5 cm. La scatola viene fornita con parti e strumenti e istruzioni di montaggio, quindi può essere assemblata anche da una persona. Il camino elettrico TOLEAD funziona con una potenza di 220-240V, 50 Hz e 1,82 kW. La dimensione dello schermo riscaldante a LED è 46 cm x 44 cm x 13 cm. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.